Amiche ed amici di AnimeManga.it ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale io sono il vostro amico Akumezu e anche quest'oggi apriamo la rubrica dedicata alla Planet Manga nella quale ovviamente vi parliamo di tutte le novità che l'editore italiano ha in serbo per noi appassionati quest'oggi vi parliamo di Crime Zone, volume molto interessante che riesce a legare in sé varie anime e sicuramente si apre all'interesse di molti appassionati italiani partiamo subito con la definizione di quelle che sono le caratteristiche editoriali di questo manga che è stato pubblicato in patria dalla Kadokawa Shoten in soli 5 Tankobon ed è il frutto dell'esordiente autore Keiji Yamamoto e soprattutto del disegnatore Seigo Tokiya un disegnatore che è famoso in patria soprattutto per i disegni delle curve femminili che riescono ad essere molto avvolgenti e molto conturbanti la Planet Manga, la divisione della Panemi Comics presenta questa storia con un bimestrale che è partito lo scorso giugno con il primo volume andiamo adesso nel dettaglio dell'edizione italiana del primo volume di Crime Zone che è questo qui come potete ben vedere, adesso andiamo nel dettaglio questa è la copertina di Crime Zone che mostra la protagonista Eruka Ichijoji con il proprio demone, guardate un'edizione come sempre abbastanza spessa, molto ben definita ed ecco alcuni dettagli delle pagine ecco vediamo i due protagonisti con personaggi secondari i corpi femminili che vengono esaltati questi sono i tratti dei corpi femminili di Seigo Tokiya ecco anche alcune caratteristiche un po' più violente e crude appunto per quanto riguarda proprio i vampiri come abbiamo detto questo manga, questo titolo è presentato nell'edizione standard un'edizione standard che però questa volta è qualitativamente un po' inferiore rispetto alle altre edizioni il primo volume che mi è venuto come riferimento è All Unity Skill pubblicato nello stesso mese che nonostante sia un'edizione standard ha caratteristiche superiori infatti Crime Zone presenta una copertina, delle copertine forse un po' troppo rigide delle pagine spesse che rilasciano molto colore è altrettanto vero che il prezzo è quello standard quindi 4,50 euro e la storia è molto valida quindi sia il prezzo che la storia permettono sicuramente di superare queste prime riluttanze nei confronti di questo volume e permetterà sicuramente a tutti quanti voi di comprarlo e di andare a fondo è una trama molto interessante una trama che vede un mondo nei quali i vampiri non sono relegati nella leggenda ma sono delle realtà molto molto crudeli conosciuti anche con il nome di esperidi che l'umanità è riuscita a decimare, quasi estinguere con grandi sforzi sia tecnologici che ovviamente a livello mondiale e riuscendo addirittura a stanarli e a non permettergli di cacciare di notte tant'è vero che le esperidi si sono abituate o meglio si sono adattate a cacciare durante l'ora del crepuscolo e di conseguenza è l'unica fascia oraria l'unico periodo durante la giornata nella quale possono essere più pericolosi il protagonista di questa storia è Shiro Aburaya un ragazzo uniceale qualsiasi che vive le proprie giornate dividendosi tra le proprie passioni e la scuola passando le giornate insieme all'amica di infanzia Ayase e che un giorno viene coinvolto nel club del rincasare ovvero alcuni suoi compagni di classe gli chiedono di partecipare a questo ritrovo da parte di alcuni di loro e di tornare a casa subito dopo le ore di lezione questo dal regolamento scolastico è proibito proprio perché si vuole evitare gli studenti di essere attaccati dalle esperidi ma i ragazzi sono molto riluttanti a seguire questa regola soprattutto i compagni di Shiro in quanto nella città dove si trovano non si segnalano attacchi da parte di esperidi da anni e anni e anni Shiro in realtà non è convinto di partecipare soltanto che viene a conoscenza che la sua cara Fushi la ragazza di cui è innamorato Minasu Fushi per la precisione parteciperà a questa spedizione, a questa avventura e di conseguenza partecipa anche egli mentre stanno per uscire dalla scuola Minasu morde letalmente uno dei suoi compagni e svela la sua natura, ovvero quella di essere un esperide iniziando ad attaccare e a divorare quasi completamente i suoi compagni salvando solo lui in quanto gli svela essere un IHS un termine che non sappiamo ancora bene cosa significa e che dovremo poi scoprire nei numeri successivi ma ha comunque, nonostante lui sia intoccabile ha comunque la voglia di morderlo e sta per farlo quando viene salvato da Eruka Ichijoji che è un'altra sua compagna di classe molto introversa, chiusa, che rimane sempre sulle sue non allegato con nessuno praticamente in classe e quindi questo intervento permette la salvezza di Shiro e soprattutto c'è un'altra rivelazione Eruka si dimostra essere una razza segreta un appartenente alla razza segreta ovvero una mezzosangue di base e in pochi attimi dimostrerà una crudeltà e una forza addirittura superiore a quelle dell'esperide Eruka, superata la prima minaccia svelerà alcuni dettagli della vita di Shiro assolutamente sconvolgenti che metteranno in gioco, rimetteranno in gioco la sua vita e tutto ciò di cui lui è a conoscenza Passando adesso alle nostre considerazioni su questo titolo dobbiamo dire che è un manga la cui storia è molto oscura, kupa e che ha nei vampiri una delle caratteristiche peculiari ma soprattutto una delle caratteristiche più forti i vampiri di Crime Zone sono i vampiri classici o meglio sono i vampiri della letteratura vampiri con crudeli, forti, molto forti e soprattutto diversi da alcuni vampiri che abbiamo potuto vedere in altri manga e anime recentemente, negli ultimi anni sono vampiri che non la mandano a dire sono molto diretti e che hanno un obiettivo chiaro in mente e che vogliono perseguire ad ogni costo e in ogni modo possibile altro elemento molto forte è il mistero un mistero che verrà mantenuto alto, altissimo sin dall'inizio e che rimarrà per tutto il primo volume il lettore si ritroverà nella condizione di avere informazioni durante la storia ma giusto quel necessario per essere conscio di ciò che sta avvenendo ma allo stesso tempo essere legato alla trama e si arriverà alla fine credetemi c'è una parola con una volontà ferrea e forte di voler scoprire cosa accadrà dopo cosa succederà a cosa si potrà andare incontro e quindi questo sarà sicuramente uno dei motivi peculiari che vi porteranno all'acquisto anche del secondo volume e di quelli successivi e soprattutto uno dei meriti da attribuire all'esordiente mangaka è altrettanto forte l'elemento dei vampiri come abbiamo detto ma soprattutto delle loro caratteristiche non soltanto nei puro sangue ma anche nei mezzo sangue o meglio della razza segreta il cui esponente più forte che abbiamo potuto vedere è proprio Eruka Ichijoji Eruka ricorda soltanto concettualmente attenzione di Vampire Hunter di Bloodlust ovvero in questo mezzo sangue che a differenza di Di e a differenza di degli altri mezzo sangue e demoni di varie opere manga e anime dell'animazione giapponese del mondo dell'animazione giapponese rimane umana in tutto e per tutto ma si è legata ad un demone in simbiosi soltanto ed esclusivamente per portare avanti la propria vendetta ha un carattere forte e determinato ma soprattutto è minata o meglio corrutta dall'odio profondo che prova per i puro sangue e di conseguenza anche il cinismo e la volontà di fare di tutto pur di raggiungere il proprio obiettivo anche sfruttare Shiro proprio come un esca vivente in conclusione Crime Zone è sicuramente un'opera con disegni accattivanti forse l'unica pecca è l'eccessiva presenza di ecchi ma questo è un gusto personale che non deve assolutamente minare le potenzialità di questo titolo è un titolo che è oscuro è forte ma ha anche la giusta carica di umorismo che riesce a spezzare i momenti di di cupezza e soprattutto a dare nuovo slancio per le scene a venire ricapitolando Crime Zone un bimestrale della Planet Manga di edizione standard al costo di 4,50 euro pubblicato a partire dal giugno 2014 come sempre amici vi invito a partecipare attivamente alla vita del progetto AnimeManga.it commentando commentando partendo da questo video oppure tutti gli altri facenti parte della rubrica Planet Manga oppure tutti quelli tutti le altre nostre video recensioni presenti sul nostro canale ma soprattutto vi invito a leggere e a commentare dirci la vostra opinione le vostre considerazioni su tutti gli articoli news che pubblichiamo quotidianamente sul nostro blog www.animemanga.it ma anche sulla nostra pagina facebook e sul nostro account twitter detto questo amici è veramente tutto un saluto ma soprattutto un ringraziamento dal vostro akumezu di AnimeManga.it al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.